cinema film tv fiction documentari video aziendali pubblicità milk la risposta audio per le vostre immagini milk finalmente un unico soggetto che vi guiderà in tutte le fasi della produzione e post produzione audio voci suoni colonne sonore riuniti finalmente in un unico interlocutore seguiremo il vostro film passo dopo passo traduzione adattamento doppiaggio registrazione della vostra colonna sonora gestione e convocazione di piccoli e grandi organici orchestrali consegna del mix finale del film un team di professionisti costruirà la perfetta anima sonora delle vostre idee ogni singola fase sia di edizione che di localizzazione sarà curata con esperienza e professionalità milk ascoltaci